Stentano a smorzarsi le polemiche per la foto e lo street artist Jorit con Putin al forum di Sochi. L'artista napoletano sui suoi canali social ha chiarito nessun elogio a Putin ma un gesto per rompere la propaganda e diffondere un messaggio di pace con l'invito ai politici europei a riprendere il dialogo con la Russia e fermare la guerra. Le foto del bacio di Meloni con Biden o Netanyahu dovrebbero far discutere quantomeno più della mia con Putin, ha scritto l'artista su Instagram, invece la propaganda di guerra ci ha fatto credere che da una parte ci siano i buoni, occidente e dall'altra i cattivi, Russia, in futuro anche la Cina. La recente visita in Russia è coerente rispetto al percorso di militanza artistica che porta avanti da anni e, come le precedenti, ambisce a diffondere un messaggio di pace. Lungi da me elogiare Putin, ma come non rompere la bolla di propaganda che ci vuole in conflitto e sempre su più fronti? I politici europei devono immediatamente riprendere i contatti diplomatici e aprire un dialogo con la Russia. Bisogna fermare la guerra, bisogna costruire ponti tra i popoli e bisogna farlo ora. Lo street artist ha poi pubblicato un atto vandalico ad un suo murale ad Ischia, un murale che ritrae una donna di colore con la chefia palestinese sul quale è stata buttata la vernice bianca e sulla balaustra adiacente è stata appesa una bandiera ucraina. Contro Jorit c'è stata una levata di scudi proprio per le opere che l'artista napoletano ha sempre firmato in nome della pace che in un certo qual modo collidono con quanto detto sul palco di soci. Tra i tanti, anche il direttore dell'Apple Academy di Napoli, Giorgio Ventre, che dalle colonne del Corriere del Mezzogiorno è stato chiaro. A Mario Paul, per esempio, con il murales della bambina con le bombe nato alle spalle e la bandiera del Don Bass dipinta nell'occhio ha ignorato scientemente che c'era stato a pochi metri un massacro di bambini, a pochi metri dal teatro dell'orrore. Allora, o è ignorante o è complice, non c'è alternativa e non è accettabile che un artista così esposto possa essere una delle due cose. Jorit non può essere la bandiera artistica di Napoli, è inaccettabile. Per molti non si può inneggiare alla pace e farsi un selfie con Vladimir Putin e non è la prima volta che Jorit fa discutere per posizioni etichettate come filorusse. La scorsa estate, finito al centro delle polemiche per aver dipinto un murales a Mario Paul, raffigurante proprio una bambina con dipinta negli occhi i colori della bandiera del Donets, regione controllata da Mosca, circondata da due missili Nato. L'artista è stato aspramente criticato anche nel marzo del 2022 per aver dipinto un murales a fuori grotta, raffigurante il celebre scrittore moscovita Fedor Dostoevsky. In quell'occasione Putin aveva eloggiato l'opera affermando che il ritratto dell'ormai cancellato in occidente scrittore russo dà ancora speranza che attraverso la simpatia reciproca delle persone, attraverso una cultura che colleghi e unisce tutti noi, la verità si faccia strada. Ciro Cerullo, nome all'anagrafe di Jorit, da sempre è un artista che fa discutere, insomma riesce nel suo intento. L'arte deve far parlare ma sia far discutere l'artista e non l'opera il messaggio inevitabilmente cambia.